ci troviamo oggi in prova in acqua su questa bellissima mostes 23.4 venere una barca di 7 metri 6 96 per la precisione per 2 metri 40 di larghezza un motoscavo sportivo forse ancora di più di sportivo perché è una barca che dalla navigazione vedrete nel filmato supera i 50 nodi abbiamo toccato ben una punta di 54 nodi è una barca che dà veramente gioia gioia di velocità gioia nel navigare andiamo ad accendere ora questo fantastico motore è musica non è un motore la barca è dotata la barca è dotata di gps cartografico unico standaglio tutta quanta la strumentazione del motore per il controllo e per la navigazione essendo una barca sportiva questa zona è molto importante per i driver oltre al fatto di avere una bellissima autoradio l'impianto serio completo su tutta l'imbarcazione di avere un'imbarcazione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.